Approvato dal Consiglio Provinciale il nuovo piano del trasporto pubblico locale in ambito extraurbano. La vera novità prevede che i collegamenti verso le frazioni con pochi abitanti, la cosiddetta area debole, vengano realizzati attraverso metodologie alternative, quindi l'integrazione con i servizi scolastici e i servizi sociali comunali, l'adozione di servizi a domanda, l'utilizzo di imprese artigiane e di mezzi più piccoli in luogo delle imprese tradizionali. Complessivamente il numero dei chilometri di servizi garantiti sarà lo stesso, circa 6 milioni e mezzo all'anno, ma nasceranno importanti economie. Confermata anche la scelta di adottare una tariffa unica, il biglietto singolo dunque passerà da 1,30 euro ad 1,50 euro. È un percorso intrapreso in virtù della legge regionale toscana che va verso il bacino unico regionale sul trasporto su gomma. Provincia di Arezzo l'atto che abbiamo approvato è il perfezionamento di un'intesa che porterà alla separazione della cosiddetta rete debole strutturale remunerativa dalla rete debole che è la rete marginale in termini di utenti, in termini di introiti di biglietti, ma che è importante e fornisce un servizio a tutte le nostre zone montane e così via. Abbiamo la sinergia con tutte le amministrazioni comunali, in un percorso virtuoso in cui andiamo a una forte integrazione tra il trasporto scolastico e il trasporto pubblico su gomma. È una rivoluzione, a fronte di questo regione toscana nell'ultimo perfezionamento di intesa ci metta a disposizione risorse, 1,50 euro a chilometro per le zone montane, 1,01 per le zone montane. Il lavoro di due anni è stato quello, comune per comune insieme alla provincia, di elaborare un progetto particolarizzato zona per zona per gestire al momento che partirà la gara regionale con tante piccole gare o con gare per vallata il trasporto per queste zone marginali, fra virgolette, periferiche, che però sono fondamentali per il nostro territorio.